Quando sveglio questa mattina mi sento bene perché voglio iniziare con la squadra e allenarsi rapido perché sono contento e molto motivato. Per me è una buona opportunità di iniziare la Serie A perché io sono venuto da qua per la Serie A. Voglio conoscere la Serie A. Allora non lo sapevo perché tutte le partite sono differenti. Posso andare in profondità, giocare in piedi, fare con il cross, fare con il tiro. Non lo so. Allora dipende dalla partita, come l'avversario giocava. Grazie, ringrazio il club e l'altrivo. Io sono di qua perché il club voglio l'aimer. Grazie al club.